Buongiorno a tutti amici di rubrica Rosso Nera, ben ritrovati, spero che vada tutto bene, che siate tutti bene, vogliamo parlare di Teo Hernández. Teo Hernández che è arrivato a questa stagione al Milan, primo anno in Rosso Nero, già protagonista, nonostante la giovanissima età è già protagonista. Perché parliamo di Teo Hernández? Parliamo di Teo Hernández perché vogliamo riportarvi quello che è stato scritto nell'odierna edizione AS, celebre quotidiano spagnolo, che analizza l'ennesima rivoluzione del Milan. Infatti, secondo questo quotidiano spagnolo, Ragnic, quindi anche in Spagna, viene confermato che sarà il nuovo allenatore del Milan e che avrà l'arduo compito di rialzare le sorti del club Rosso Nero. Tra gli intoccabili della sua futura squadra, senza dubbio, figurerà Teo Hernández. Teo Hernández che in questo momento è arrivato al Milan, è arrivato e sta facendo molto, molto bene e è stato autentico protagonista di questa stagione. Il francese sarà quindi un punto cardine del modulo giovane, spregiudicato, molto rapido dell'ex Lipsia. Quindi l'edizione spagnola AS parla già di ex Lipsia. Quindi la conferma anche in diretta di Paolo Maldini che ha chiesto rispetto per chi come lui, Massara e Pioli, sta finendo, cercando di concludere con tutte le difficoltà a cui si è giunto anche il coronavirus la stagione. Però la certezza è che Ragnick sarà il prossimo allenatore del Milan, che Ragnick abbia già ratificato un accordo con il Milan. Questo viene, diciamo, un po' smentito da casa Milan in maniera ufficiosa per, in qualche modo, cercare di tenere una sorta di professionalità. Ma Ragnick, già dalle interviste, dal comportamento di Maldini, si è capito che Ragnick sarà il manager che guiderà l'ennesima rivoluzione rossonera. Perché abbiamo parlato di Teo Hernandez, però? E perché abbiamo voluto fare un video su questo calciatore? Molto semplice, ho visto e sto notando, mi scrivete in tantissimi su Instagram, che Teo Hernandez, che scusate, che Ragnick non riscuota la simpatia di tutti i tifosi rossoneri. E qua, secondo me, in qualche modo, va analizzato in maniera oggettiva, professionale, la questione. Siamo tutti d'accordo, penso, tutti, tutti d'accordo, che il Milan stia vivendo l'ennesima brutta stagione, dal punto di vista dei risultati sportivi. E che l'arrivo d'Ibra sia stato molto importante, ma che in qualche modo, se un ragazzo, seppur un fuoriclasse a 38 anni, ha fatto bene, e in qualche modo è arrivato un po' come pagliativo per togliere e distogliere le attenzioni su una squadra costruita in maniera, negli anni, chiaramente non solo quest'anno, ma che presenta delle grandi e grosse lacune. Ricordiamoci che il Milan ha fatto solamente 28 gol in 26 gare. E la Sverona, Sassuolo, Cagliari, Torino, hanno fatto più gol del Milan. Questo dovrebbe bastare per farci riflettere, per capire che il Milan è stato costruito male. Quindi è necessario, è fondamentale ricostruire un'altra volta il tutto, rivoluzionare. Ricordiamoci il Monte in Gaggi, guardiamo i risultati sportivi. Sono risultati deludenti. È chiaro che la rivoluzione è necessaria. Basta che il prossimo anno non saremo ancora qui a parlare di ennesima rivoluzione. Lì sarebbe un grande e grosso fallimento. Però, se Ragnic, come viene confermato da autorevoli colleghi, e anche secondo le nostre fonti confermano queste indiscrezioni, abbia, riceva un contratto quinquennale, con ampi poteri decisionali, con la possibilità di portare il suo staff di fiducia, con la possibilità di investire sul settore giovanile, di investire nello scouting e di ricostruire, partendo dalle fondamenta, una squadra giovane, di talento, come Teo Hernandez, allora, perdonatemi, ma noi di Rubrica Rosso Nera siamo a favore di tutto ciò. Ibrahimovic è un grande campione, è un grandissimo giocatore, è il nostro idolo, però è un classe 81, va per i 39 anni. È chiaro che il Milan debba pensare di ripartire, non può guardare al passato. Il Milan deve guardare al presente e al futuro. E Ragnik, se, in qualche modo, in questi anni, ha rivestito la carica prima da allenatore allo Schalke all'Offenheim, facendo molto bene, poi da manager, e prima da allenatore e poi da manager all'Ipsia, creando un impero, pensate, ripeto questa cosa, pensate che il Salisburgo, il Salisburgo, ha vinto la Youth League, ovvero la Champions League dei giovani, battendo squadre come Tottenham, come Barcellona. Perché il modello Ragnik è incentrato sui giovani, gli giovani sono il futuro. Questo non vuol dire che il Milan venderà i giocatori, ma non lo vende neanche l'Ipsia. Li vende, ma se li vende, li strapagano, e per quello li vende. È una squadra molto, molto forte economicamente. Quando io sento dire, eh, ma il Milan non è l'Ipsia, eh, ma il Milan non è l'Atalanta, eh, ma il Milan non è la Lazio, avete ragione, purtroppo non è così in questo momento. Siamo tutti abituati e torneremo sul cima del mondo, perché il Milan, la sua storia impone questo. Però bisogna fare una crescita step by step. Bisogna crescere piano, piano. Bisogna nel prossimo anno già arrivare, un anno e mezzo magari, arrivare al passo della Lazio, al passo dell'Atalanta, e poi con la proprietà Fondo Youth, che ha tanti soldi, con una proprietà, magari se ci sarà un passo di proprietà, una proprietà ricca, saper cogliere le opportunità di mercato, vendendo magari su 6 o 7 giocatori, che porterà Ragnick uno, e poi, quindi, rinforzare il bilancio, e ricostruire, e riportare altri giovani, quindi, e integrare man mano il gruppo, così si fa il calciomercato. Così sta facendo anche Marotta all'Inter, ha fatto la Juve. Tanti giocatori, Vidal, Pogba, giocatori che non conosceva nessuno, poi dopo Pogba, è arrivato a zero, venduto a 100, è arrivato con i suoi soldi, è arrivato Dybala, sono arrivati altri giocatori. Dybala, scusate, è arrivato al stesso anno, ma poi è stata rinforzata drasticamente, la squadra Cristiano Ronaldo, e così via, fino a 5-6 anni fa, era impensabile. Basta poco, bisogna avere pazienza, però bisogna mettere giù le fondamenta. Se Ragnic il prossimo anno, porterà 4-5 giocatori interessanti, come Soboslai, molto forte, poi, se uno verrà ceduto, per rinforzare il Final Shuffleplay, con una bella plusvalenza, e con quei soldi, reinvestirli, su altri 2-3 giocatori, allora potremmo dire, di aver fatto la scelta, giusta, i risultati sportivi arriveranno, è impensabile, che in un anno, con i vincoli del Final Shuffleplay, il Milan, possa tornare a vincere il campionato, possa vincere, possa qualificarsi, immediatamente, e vincere la Champions League. Bisogna una crescita costante, ed è quello che ha fatto Ragnic all'Ipsia. Ripetiamo, ricordiamo, Ragnic con il Lipsia, ha battuto 3-0, il Tottenham di Murigno, in Champions League. Ed è stata una squadra, che gioca un grande calcio, che ha un sacco di talenti, il Lipsia, Upameciano, Werner, giocatori di grande fama, giocatori che vengono ricercati, dai tutti i top club europei. Il Salisburgo, cioè Soboslai, aveva Haaland, l'ha venduto, perché va bene, il Salisburgo, la Red Bull, quella politica. Tenendo conto, che comunque, in quei campionati lì, anche vendendo Haaland, riescono a vincere i campionati, riescono a trionfare, riescono a qualificarsi in Champions, riescono ad avere un budget, un bilancio, molto forte, hanno un sacco di proprietà. Quindi magari il Milan diventasse in giro di un anno e mezzo il nuovo Lipsia, per poi riconsolidarsi nelle zone, negli posti, che gli competono a livello europeo e a livello mondiale. Ma per arrivare in cima al mondo, bisogna crescere. Il Milan negli ultimi anni ha avuto pochi giocatori dal settore giovanile, sono due anni che il Milan, dopo Locatelli, non sforna più giocatori. Vediamo se Maldini, se Brescianini, se Pobega, possono ripercorrere un po' le orme comunque di giocatori professionisti, per poi rivenderli eventualmente, se non saranno considerati sufficientemente forti per il Milan da garantire plus valenze, ma è importante per il Milan tornare a fare scouting. Kakà è arrivato così, Boateng è arrivato non con uno scouting, ma con un'operazione intelligente insieme al Genoa. Bisogna tornare a programmare il futuro, bisogna avere una società che ha un'unica mission e ha un'unica vision, il bene del Milan, troppi dirigenti, troppe teste che pensavano hanno condizionato in negativo le sorti del Milan. Se vi è piaciuto questo video e vi augurate anche voi che Ragnik venga al Milan, mettete mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale YouTube di rubrica Rossoneira. Grazie a tutti.